Belen presenta la suocera sui social. Il commento è una frecciata alla mamma di Stefano? La showgirl posta la prima foto di lei con la mamma del compagno Elio Lorenzoni insieme a una didascalia che rimanda a confronti con le precedenti suocere. Con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez fa sul serio. E le sue intenzioni sembrano ormai davvero così risolute da essere ribadite con ogni mezzo a disposizione attraverso i social, dove la vita è condivisa con scorci di romantiche novità sentimentali e pure familiari. Già, perché la showgirl è passata adesso a definire con il termine formale di suocera la mamma del compagno, presentata ai follower con una frase che, alla luce del suo passato sentimentale, sembra proprio rimandare alla madre di Stefano De Martino, ex marito con cui ha provato a ricucire il rapporto dopo la storia con Antonino Spinalbese. La mia suocera più bella del mondo si legge sulla foto che mostra la showgirl in lontananza abbracciata alla donna, in un momento di intimità catturato durante un weekend che ha sancito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la forza del legame con Elio e la sua famiglia Lorenzoni. I due stanno insieme da pochi mesi, ma durante una recente vacanza alle Maldive hanno già ufficializzato l'intenzione di convollare a nozze. O almeno così ha fatto credere la showgirl che già si prepara a chiamare suocera la mamma dell'uomo che gli ha restituito il sorriso dopo la fine, pare ormai certa, con Stefano. Fino ad oggi Belen ha preferito solo alludere alle sue vicende sentimentali con dediche, battute e video, e tenersi lontana da situazioni che l'avrebbero portata a dare esattamente la sua versione dei fatti su cosa sia accaduto tra lei e il padre di suo figlio Santiago. Ma il tempo di tacere pare proprio stia per scadere, domenica 3 dicembre la ex conduttrice di Canale 5 è attesa a domenica in. E lì, nel salotto di Mara Veniera a cui già in passato ha affidato forti rivelazioni, potrebbero arrivare nuovi colpi di scena.